Brescia è la squadra che in questo momento ha raggiunto un livello di fiducia in tutti i suoi giocatori, sia quintetto che panchina, praticamente ineguagliabile dalle altre squadre. Ogni giocatore che entra in campo in questo momento riesce a essere efficace e produttivo in attacco con un'estrema disinvoltura e facilità. A partire da Fernandez, il playmaker che ormai sta portando la squadra sempre più a un livello di fiducia e di capacità di trovare il canestro con facilità incredibile. Questo per dire che a volte le squadre trovano un trend che le porta ad innellare una serie di successi come sta facendo Brescia in questo momento e molto per merito loro, più che per demerito delle altre squadre, perché si fa fatica davvero a fermare questa fiducia che i giocatori ormai hanno. Basta che uno faccia canestro e tutti partono e sono pronti a portare dei punti alla squadra. Questo è il motivo per cui Brescia in questo momento è la squadra del campionato più difficile da fermare. Ovviamente questo non significa che sono imbattibili, però la partita che sarà una partita a mezzogiorno, la prima diretta di Sky di questo campionato, offrirà sicuramente dello spettacolo, perché crediamo comunque che sia una partita dove ci sarà un punteggio molto alto. Noi dobbiamo, da questo punto di vista, essere bravi a rispettare quello che è il nostro modo di giocare, dove anche noi comunque in attacco possiamo essere davvero molto produttivi dal punto di vista di punti. L'energia che riusciranno le squadre a trovare in questo orario diverso sarà forse la chiave e la differenza che potrà essere messa in campo in questa partita. Grazie a tutti!